Prossimamente ci sarà un incontro tra i commercianti del Centro Storico e la Giunta Comunale per esaminare quelle che sono le problematiche del settore, i lavori previsti in Corso Vittorio Emanuele ma anche l'isola pedonale. Qual è la vostra posizione? Allora innanzitutto noi lunedì alle ore 11.30 siamo stati convocati come organizzazioni di categoria, quindi sia la Convo Commercio, Convo Sercenti e Centro Commerciale Naturale per questa riunione organizzata dal nuovo sindaco per discutere appunto di commercio e centro storico. In particolare si discuterà di un'iniziativa che vuole intraprendere l'amministrazione di chiudere il tratto a distante il Comune, cioè il tratto che va dal Corso Umberto fino alla Statua. E poi un'altra iniziativa che sicuramente andremo a discutere sono i lavori che dovranno iniziare a breve nel tratto di Corso Vittorio Emanuele che oramai sono stati già affidati alla ditta di Agrigento e pronto il contratto di appalto e dovrà essere firmato da questa nuova amministrazione. E quindi sarà il nostro compito capire un attimino quale sarà la data di inizio e come procedere per svolgere questi lavori. Come vedete una probabile chiusura. Ma devo dire che è così semplicita e noi non siamo d'accordo alla chiusura del centro storico. Io faccio sempre un esempio, tu a casa prima di invitare le persone metti i famosi divani. Quindi diciamo che è un progetto secondo me a lungo periodo. Se si vengono a definire tutta una serie di situazioni come per esempio eventi che si organizzano, gente che verrà al centro storico, allora noi potremmo essere anche d'accordo. Ma in questo momento sicuramente danneggere le attività commerciali e pertanto non è applicabile. Capitolo parcheggi? Ecco, per esempio questo è uno degli argomenti più importanti. Prima di chiudere un tratto di strada è necessario fare una serie di accorgimenti che riguardano la viabilità, riguardano i parcheggi, in modo da agevolare le persone a poter venire al centro storico. Se noi mettiamo semplicemente una barriera invece facciamo in modo che le persone escono e vanno fuori dal centro storico. Grazie. Grazie.